Il governo di Nomenico ...eppure di Nomenico a lavorare, ma ho detto voi, come pure, stanno tanti altri, tanti altri ancora non si rendono voto e io vi posso dire, ad esempio, non vedo il nome, che poi ho dovuto fare un provvedimento, ma forse capito a chi mi riferisco, che aveva anche un'altra funzione. Quando è stato due anni fa che si stava arrivando alle festività pasquali e quindi la sua attività non era... Allora dico, a Pasqua aiuta perché... Ma non lo dovrei nemmeno dire, cioè dovrebbe essere l'interessato. E arrivo il certificato medico, allora a quel punto non mi interessa più lì quindi è proprio che vai a fare quello che sembra... Ma per farlo io ne sento. Però tu blocca in materia un po' che si è arrivato. Proviamo... Quello pure è della festa di duro. I domini da pulire e niente.